Oggi parliamo di Francesco Bussone, conte di Carmagnola, nobile, infatti come dice il nome conte di Carmagnola aveva il possedimento di Carmagnola e non solo, ma soprattutto capitano di Ventura. Capitano di Ventura vuol dire capitano di truppe mercenarie che prestano servizio a quello all'altro signore in cambio di denaro. Partiamo con il nostro racconto con un conte di Carmagnola che segue Facino Cane. Alla morte di questo condottiero il conte continua a seguire la sua vedova, ovvero Beatrice Tenda, che si risposa e si sposa con Filippo Maria Visconti, fratello minore di Giovanni Maria Visconti che era duca di Milano. Con lui vince gli aretini senesi, i lucchesi e rimette al suo posto il duca di Urbino. Giovanni Maria Visconti muore avvelenato nel 1413. Alla sua morte il ducato di Milano è scosso da vari tumulti e il legittimo erede ovvero Filippo Maria Visconti che è proprio servito da Carmagnola è in difficoltà. Il Carmagnola accorre al suo aiuto, lo consiglia e lo aiuta contro i suoi parenti che volevano impossessarsi del titolo di signore di Milano e sconfigge nel 1413 a Monza e Storre Visconti. Consolidata la signoria di Filippo Maria Visconti, il duca per incompensarlo gli dona un palazzo a Milano. Nel 1415 combatte con Cabrino Fonduolo, Pandolfo Malatesta, Giovanni Vignati e il Marchese di Pescara. Nel 1416 prende il castello di Lecco, attrezzo d'Adda fa prigioniero Bartolomeo con leoni e libera interamente gli antichi possedimenti lombardi. Dopo lungo assedio conquista Piacenza. Per farsi aprire le porte delle mura fa impiccare il figlio e il fratello di Filippo Arcelli, anche egli condottiero sotto i Visconti che aveva come compito di conquistare appunto Piacenza, ma lui a differenza di Carmagnola una volta conquistata se l'era tenuta e l'era diventato signore. Nel 1419 va contro Genova, poi contro Fonduolo, alleato con il Malatesta, prende Cremona, Castelnuovo, Boccadadda, Castellone, Bergamo, Orzinuovi, Palazzolo e Pontoglio. Nel 1420 sconfigge il nuovo esercito del Malatesta a Brescia e prende la città per fame e per sete dopo un lunghissimo assedio e la conquista. Entra triunfalmente a Milano e consegna la città a Filippo Maria. Va poi contro i ribelli svizzeri e li sconfigge a Bellinzola nel 1422. Fu uno dei pochi condottieri che riesce a sconfiggere la formazione del quadrilatro svizzero con la giusta intuizione di far smontare i cavalieri da cavallo pesantemente corazzati e annientando completamente i ribelli. Inoltre occupa nel 1422 l'Aldorf. Per ricompensare i suoi meriti Filippo Maria Visconti gli offre in sposa Antonia Visconti e anche vari titoli e possedimenti, alimentando però nel Carmagnola ambizioni di successione e questo tipo di atteggiamento non fu tollerato a lungo dal paranoico Duca, che per evitare problemi gli toglie il comando militare e lo fa diventare governatore di Genova, appena conquistata e considerata poco affidabile. In Carmagnola, capendo che non poteva stare alla volubilità del suo Duca, sceglie di non seguirlo più, si fa pagare e lo abbandona. Segue Odino Granetto, poi nel 1425 passa alla Repubblica di Venezia, che stava pensando di rompere l'alleanza con Filippo Maria Visconti per allearsi con Firenze, che era minacciata dal Duca di Milano. Viene incaricato quindi come comandante militare della lega di Firenze e Venezia e si insiede a Treviso. Però Treviso incontra nuove minacce. Valentina Visconti, sorella di Estorre Visconti e il marito Giovanni Leiprandi tramano con Filippo Maria Visconti per assassinarlo con del veleno. Il Carmagnola scopre però questo complotto e fa imprigionare e poi uccidere a Leiprandi. Nel dicembre del 1425 scoppia la guerra tra Venezia, alleata con Firenze contro il Ducato di Milano. E nella seconda fase del conflitto il Carmagnola interviene nella battaglia di Maclodio, vinta trionfalmente il 12 ottobre del 1427. E nonostante il senato veneziano avesse sospettato per un troppo generoso scambio di prigionieri, viene comunque ricompensato e gli vengono riconosciuti i suoi onori. La pace del 1428 non durò molto, infatti nel 1431 riprendono l'ostilità e il Carmagnola fallisce a portare aiuto alla flotta veneziana sul Po. Non soccorre nemmeno il cavalcabò che stava assediando Cremona, che è costretto quindi alla ritirata, e inoltre ignora totalmente il Friuli che viene devastato dagli Ungari e dell'imperatore Sigismondo. Questi tre eventi rendono sospettoso il senato veneziano e il Consiglio dei Dieci decide quindi di mettere sotto sorveglianza la sua posta. E da questo atto parrebbe che in effetti qualcosa trovarono. Da questa sorveglianza risulta che degli accordi con Filippo Maria Visconti ci furono e che il duca di Milano le avesse offerto in cambio del tradimento di Venezia la signoria di Brescia. Nonostante non abbiamo più le carte del processo dove viene condannato a morte, possiamo comunque propendere per la sua colpevolezza, per vari elementi. Il primo di questi è il suo atteggiamento nel momento dell'arresto, che si dimostrava parecchio sospetto, come se non avesse la coscienza pienamente a posto. Come seconda cosa le prove dovevano essere parecchio schiaccianti per avere una maggioranza così al senato per la condanna a morte. E come terzo elemento, e questo lo direi quasi il più importante, è la reazione dello stesso Filippo Maria. Quando viene condannato a morte Carmagnola fa interrogare e torturare un patrizio veneziano, suo prigioniero, per sapere appunto cosa sapesse la Repubblica di Venezia dei suoi convolgimenti con appunto il Carmagnola. Qualcosa da nascondere ce l'avevano. Dopo essere stato torturato e ad aver ammesso la sua colpevolezza, che questo qua non è una prova perché che qualunque persona sotto tortura direbbe qualsiasi cosa, viene decapitato in piazza San Marco tra le due colonne, come di consueto, davanti alla moglie e i figli. Nonostante questa condanna a morte, comunque gli furono dati dei funerali di tutto rispetto e fu seppellito privatamente nella Basilica dei Frari a Venezia. Inoltre la moglie, ormai vedova, poteva avere dalla Repubblica di Venezia il consenso per poter trasportare il corpo da Venezia a Milano, dove fu seppellito nella cappella di famiglia di lei, nella chiesa di San Francesco, che per oggi non è più visitabile perché è stata distrutta nel 1798. Il conte di Carmagnola viene ripreso come tema da Manzoni. Manzoni ovviamente ci tesse una storia abbastanza diversa, ovviamente non aveva certe informazioni che abbiamo oggi. E inoltre, nonostante lui volesse raccontare la storia, lui era più interessato a raccontare una certa morale del tutto e voler sottolineare come il popolo italiano diviso tra lotte e fraticide non aveva invece l'unità che lui invece sognava. Erano come sempre, come anche i Promessi Sposi, una rivisitazione del tema risorgimentale che lui non poteva scrivere ai suoi contemporanei della contemporaneità, ma trasponeva le sue tematiche attuali in un'epoca passata per cercare di ispirare uno spirito di fratellanza tra gli lettori italiani. E' proprio del conte di Carmagnola, però quello di Manzoni, romanzato, abbiamo il suo ritratto di Hayez. Lo studio per la testa del Carmagnola è il ritratto del conte Alfonso Porroschiaffinati, olio su tela del celebre Hayez, dipinto tra il 1820 e il 1821. Sul retro, la scritta penna Conte Porroschiaffinati, San Albino, Hayez non lascia il minimo dubbio. Il famoso quadro, Comprara Brera, nel 1821, con il lungo titolo Il conte di Carmagnola, mentre sta per essere condannato al supplizio, raccomanda la sua famiglia e l'amico Gonzaga, ultima scena della tragedia di Alessandro Manzoni. L'aitante Conte, preso modello per la figura del Carmagnola, concederà successivamente nuovamente la sua immagine, nel 1827, utilizzata nella Maria Stuarda condotta al Patibolo. Ed è qui che probabilmente Hayez diede per riconoscenza questa straordinaria opera ancora non terminata. Per questo motivo il quadro trovato presso la villa Porroschiaffinati di San Albino, presso Monza, passerà per via ereditaria e discendenti del giovane aristocratico. Osservando l'opera, il tratto e l'espressività che la caratterizza ricorda quella della testa del pittore e amico Lodovico Liparini, servito da modello per il Pietro Rossi, la prima grande composizione storica di Hayez dipinto tra il 1818 e il 20, portando con sé una forte carica emotiva del ritratto e del personaggio che deve rappresentare ovviamente. Rilettura anche dello studio dal vero, in chiave di naturalismo romantico, del famoso autoritratto di Giorgione, accreditato anche dallo stesso Vasari, di Breischweig. Quest'opera straordinaria, in parte incompiuta, coglie la sensibilità e potenza della tragicità del momento descritto prima della fine e, anche forse per la sua traccia rimasti a tratte grezza, riesce a raggiungere incredibili capacità d'espressione.